Non muoio io, adesso ti penso, no ma che ti penso, no ma che ti penso, adesso ti leghiamo l'esagerino Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Che cosa dovremmo temere, ma che cosa potremmo sperare, che cosa? Grazie a tutti. Amare e scappare, frangere le leggi e scrivere da sole la storia dei tuoi figli che possa funzionare in questo mondo senza parole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.